Sopravviviamo. Sopravvivi. Da dove vieni? Io sono cittadino rumeno però sono nato in Moldavia. Da quanto tempo stai con l'Italia? Sono stato a Roma un periodo, un anno. Saranno tre anni. Quando è degenerata la situazione? Un stronzo mi ha sequestrato il mio, la mia carta di identità. Io sono cittadino rumeno. Tanti Moldavia hanno falsificato gli atti, sono casi successivi. Tu non lo hai falsificato? Io no, io avevo la mia carta di identità vera. Hai un sostentamento, dei soldi? Come vivi? No, no. Mangi al centro di urno? Sì, sì. Non hai paura che vengano a sbaraccare? Qui ogni tanto vengono vigili urbani, l'AMIU, vengono a sbaraccare tutto. Vengono, sì. Questo succede. È successo non una volta. Ci avevo documento e andavo in dormitorio. Dico, ma perché qui in Corso Italia e non da un'altra parte? I giardini si chiudono prima di tutto. Quindi qua stai bene perché comunque c'è il ponte, sei tranquillo. Non piove. Se anche piove non ti arriva a bagnarti. Io leggo sempre. Come ti chiami? Pietro. Quanti anni hai avuto? Grazie a Dio, il mese scorso sono arrivato a 60. Cosa sogni per il tuo futuro? Può darsi che ti pare strano. Sono stato ricoverato a Castellana Grotti un periodo abbastanza tre settimane. Ho conosciuto una ragazza a Castellana Grotti che lavora in ospedale. Il mio sogno, non lo so. Io lo voglio visitare. Ti sei innamorato di lei? Sì, c'è un sentimento. Ma lei lo sa? No. Siamo lasciati, lasciati, in senso che io non abbiamo fatto niente, nemmeno un bacio. Così, un atteggiamento molto sentimentale. Anche lei si è comportato molto, molto, molto bene. In modo un po' raro, diciamo. È una persona molto sensibile. Ma lei che è sposata e non può... No, no. Ascoltami, lei mi ha dato il numero di telefono, ha scattato una foto con me insieme. L'hai chiamata? No, non volevo fare una sorpresa. Ho preso un grande bucchetto di fiori. E glielo porti. Io lo voglio fare alla sorpresa. E facciamo questa sorpresa. Eppure io lo voglio sposare. Mo sto leggendo la storia di Abramo, di patriarca. Sono religioso anche. Immagino che tu sappia l'inglese. No, io so francese, il russo alla perfezione, il rumeno. Queste tre lingue. E l'italiano? L'italiano? No, questa è la mia seconda lingua. Eppure io l'Italia lo considero come la mia seconda patria. Italiano e quasi maresi.